ciao cinefusi.it dal 17 novembre sarà nelle sale diabolic ginkgo all'attacco l'adattamento cinematografico del sedicesimo albo dell'omonimo fumetto creato dai giussani ed è il secondo capitolo della trilogia di diabolic sì trilogia perché questo questa operazione dei manetti bros è stata pensata proprio per farne una trilogia detto ciò però vi dico che non è strettamente necessario vedere il capitolo precedente questo nuovo capitolo sembra un episodio a sé quasi certo è meglio che magari vediate anche il precedente perché comunque nel primo diabolic dei manetti bros viene raccontato come nasce la love story tra diabolic ed evacante detto ciò qual è la trama in parole povere streaming site diabolic ruba una corona appartenente alla collezione di armen però non si accontente vuole rubare anche i gioielli appartenenti a quella famiglia ci riesce ma ginkgo probabilmente è stato più furbo di lui perché ha ricoperto quei gioielli e di una vernice con un gps che può scovare appunto dove si trova quindi diabolic in quel momento e così da cogliere diabolic ed evacante in flagrante e catturarli una volta per tutte infatti ginkgo e i suoi colleghi arriveranno nell'ascondiglio di diabolic e diabolic ed evacante sono costretti a fuggire nella fuga evacante si fa male casca e chiede al suo compagno di aiutarlo però se diabolic aiuta evacante comunque la polizia lo catturerebbe allora diabolic decide di fuggire abbandonando evacante evacante naturalmente se la prende riesce a fuggire pure lei non con diabolic che era già fuggito e poco tempo dopo però evacante si farà viva con ginkgo e gli propone un patto dice io ti consegno diabolic perché con me è stato uno stronzo mi ha abbandonato io mi voglio vendicare in cambio tu mi mandi all'estero con la felina penale pulita mi lasci vivere la mia vita in tranquillità e quindi siamo a posto entrambi e ginkgo deve decidere perché lui non è proprio convinto di fare questa di fare questo patto invece i suoi superiori vogliono che ginkgo accetti dicono dai dai ti prego è un'occasione così non ricapiterà e in mezzo a tutto questo andiamo anche un pochino a vedere qual è la vita privata di ginkgo che funge un po da protagonista tant'è vero che il titolo diabolic ginkgo l'attacco e vediamo che ginkgo è fidanzato con una duchessa altea interpretata da monica bellucci e però cercano di tenere nascosto questa relazione perché comunque lei è una duchessa un ispettore potrebbe fare scalpore la loro love story dunque partiamo con questa cosa qual è meglio tra il diabolic di luca marinelli e il diabolic di giagnotti secondo me il migliore è quello di john philip low di mario bava comunque a quello è diabolic come a livello interpretativo che preferisco io tra marinelli e giagnotti io ho preferito quello di giagnotti a parte il fatto che fisicamente ce lo vedo un po di più però anche a livello interpretativo allora non mi ha fatto impazzire giagnotti però comunque mi è sembrato crederci di più in questo ruolo e l'ho visto un pochino più vicino a quello che è il diabolic dei fumetti diciamo che quello di marinelli l'ho trovato troppo 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 glaciale quello di giagnotti l'ho trovato misterioso e anche un pochino piacione vi faccio un esempio se diabolic dice andiamo a prendere un caffè marinelli lo direbbe tipo andiamo a prendere un caffè e invece giagnotti che è un po più piacione anche se un po misterioso pure lui lo direbbe andiamo a prendere un caffè vabbè ecco sicuramente li ho interpretati malissimo entrambi però spero che il messaggio vi sia arrivato però appunto ho preferito un po di più quello di giagnotti e vi ripeto mi è sembrato anche che ci credesse di più nel fare diabolic marinelli da quello che ho notato io mi sembrava non crederci fino in fondo però ancora una volta secondo me quella che la spunta di più a livello interpretativo è miriam leone secondo me lei è un'ottima vacante sia fisicamente che a livello interpretativo non mi è dispiaciuto affatto a me miriam leone sia nel primo che nel secondo capitolo dei manetti bros l'ho preferita anche a livello di scrittura come è stata scritta queste vacante rispetto a quella di marisa mel che lì mi sembrava proprio un agnellino un personaggio troppo messo in secondo piano con poca personalità invece queste vacante ha una bella personalità di fondo gli altri a livello interpretativo non mi sono piaciuti più di tanto pur essendo molti di loro bravi attori da master andrea per esempio ma anche nel precedente film marinelli un bravissimo attore quindi non è tanto un problema dell'attore in sé che non è bravo qui il problema è che io dopo aver visto il primo film speravo che magari nel secondo capitolo gli attori recitassero in maniera molto più naturalistica così non è stato mi è sembrato anche in questo film un capitolo recitato in maniera troppo impostata troppo recitata troppo fredda troppo anacronistica e come vi dicevo appunto troppo impostata quindi ho capito che è una cifra stilistica che vogliono i manetti bros che io personalmente non condivido però l'importante è che piace a loro ovviamente però ecco non c'è a livello interpretativo a parte miriam leone gli altri non comunque non mi sono piaciuti più di tanto da master andrea a monica bellucci e compagnia bella detto ciò però c'è un però nel senso che ho preferito questo capitolo rispetto al precedente perché perché questo capitolo perlomeno l'ho visto molto più ritmato il precedente diabolic secondo me a livello di ritmo non funzionava particolarmente bene calava riaccelerava rallentava poi riprendeva il ritmo poi ricalava di nuovo e anche a livello action non era tutto sto granché secondo me il primo diabolic che infatti non mi era piaciuto proprio invece questo a livello di ritmo già funziona meglio comunque tiene incollati davanti allo schermo di spettatori poi c'ha un colpo di scena che io personalmente avevo previsto circa 20 minuti prima che finisse il film se non anche un po' di più e probabilmente non sarò stato l'unico e non sarò l'unico però comunque già ti tieni lì a cercare di capire se veramente così come pensi tu o altro e comunque ti tieni incollato davanti allo schermo nel primo invece questo non succedeva inoltre mi è piaciuto l'inizio di Diabolic Gin con l'attacco dove fa una comparsa di Odato che canta la canzone del film che è se mi vuoi e fa anche una comparsa proprio a livello recitativo di Odato e quando canta poi la canzone davanti al pubblico ci sono questi titoli di testa che compaiono con delle immagini con degli oggetti un'introduzione che mi ha ricordato il classico film di James Bond appunto che facciamo finta con Fingers, Skyfall, La morte può attendere insomma tutti i film di James Bond che c'è la canzone del film con i titoli di testa con queste immagini, canzoni tutte corali bene o male come quella che è anche di Di Odato e devo dire che quella parte mi è piaciuta molto e anche c'è una parte in un bar sempre all'inizio che non è che mi ha fatto particolarmente impazzire quella scena ma ho visto il timbro di Manetti Bros che comunque quasi sembra trasformarsi in un musical a una certa e qui ho detto ah mazza ecco si vede che questi infatti hanno fatto amore ma la vita appunto quindi diciamo che la cifra stilistica dei Manetti Bros comunque si vede però il problema qual è? è che a parte a livello interpretativo che l'ho trovato troppo freddo, troppo anacronistico è troppo freddo proprio il film per dire hanno voluto mettere la love story tra Mast Andrea e Monica Bellucci però non è che viene approfondita più di tanto cioè sembra che abbia voluto mettere quella sotto trama perché doveva mettercela per forza perché hanno detto Ginko comunque è il protagonista di fondo del film allora deve essere un pochino più centrale ma mettiamoci questa storia e via però voglio dire cioè al di là del fumetto mica fumetto però approfondiamola di più questa storia allora evolviamola un pochino di più e facciamola recitare anche un pochino meglio e altra cosa rendiamola soprattutto un pochino più calda, meno fredda bene o male sia questo Diabolic che il precedente mi sembrano un po' delle telenovelas ma anche dei film magari degli anni 70, 80, 90 che vanno in onda su Re 2 e neanche escono al cinema mi sembra un tipo di operazione del genere per come appunto viene impostata la recitazione e tutto ciò che ne circonda anche di fondo però comunque magari alla sufficienza questo ci può pure arrivare perché comunque a livello di intrattenimento con me almeno a me non ha annoiato comunque mi ha intrattenuto però insomma non mi è piaciuto il precedente non mi ha fatto impazzire questo Diabolic quindi insomma spero che il prossimo capitolo sia meglio vi ripeto, secondo me la cosa che ancora una volta risalta più all'occhio è Miriam Leone come Evacanta detto ciò, fateci sapere voi se andrete a vedere questo film se avete letto il fumetto se preferite il Diabolik di Marinelli, di Gianniotti se siete fiduciosi per un capitolo futuro lasciate un like al canale lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se questo video appunto vi è piaciuto